Cantieri fermi all'Aquila. Nella città dove c'è una grande concentrazione di ditte che dovrebbero portare avanti la ricostruzione post-sisma e nonostante l'ingresso nella fase 2, i lavori non ripartono. A frenare le imprese è l'ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi che impone entro 14 giorni dalla ripresa i tamponi a tappeto obbligatori per tutti gli operai impegnati nei cantieri aquilani. Ordinanza che è stata bocciata dal prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco che nella nota diramata stamani parla di misure emanate del primo cittadino maggiormente restrittive rispetto alle statuizioni del protocollo condiviso per il contenimento del covid-19 nei cantieri allegato al dpcm del 26 marzo proprio nella parte in cui impone test molecolari a tutte le maestranze. Alla luce del quadro normativo osserva il prefetto un sindaco non può emanare ordinanze confliggenti con le disposizioni emesse in sede centrale e aggiunge che anche l'ordinanza 54 del presidente della regione Marsilio prescrive la segnalazione e il monitoraggio ma non l'obbligo dei tamponi per tutte quelle persone che fanno ingresso in Abruzzo a partire dal 4 maggio. Ciò premesso conclude la nota della prefettura si ravvisa la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di una intesa tra istituzioni associazioni di categoria e ordini professionali che preveda l'esercizio facoltativo della sottoposizione a tampone nel rispetto della libertà di autodeterminazione dei lavoratori e tenuto conto della pari necessità di tutela della salute e della sicurezza all'interno del cantiere. Poco prima si è registrata la presa posizione di Anci Abruzzo attraverso una nota firmata dal presidente Antonio Dintino che ha parlato di una ordinanza che è stata un fulmine a ciel sereno provvedimento firmato il 30 aprile e tamponi da fare entro 14 giorni per tutte le maestranze rappresentano una previsione temporale talmente stringente si legge nella nota da trovare tutti impreparati con la conseguenza di un ulteriore blocco dei lavori e quindi della ripresa economica e sociale un adempimento sul quale le imprese non sono state coinvolte e sensibilizzate in posizioni così drastiche prosegue Dintino oltre che di difficile attuazione non possono essere rese pubbliche senza un preavviso adeguato rinnovo pertanto un appello conclude il presidente di Anci Abruzzo affinché si trovi la migliore applicazione della ordinanza nel rispetto delle misure anticontagio e favorendo al contempo la ripresa stabile dei lavori